come vedere lo stato dei contatti su whatsapp è davvero un gioco da ragazzi non è difficile come può eventualmente sembrare non vado a fare altro che a cliccare l'icona di whatsapp eccola qua ci clicco sopra a questo punto mi si apre il programma non vado a fare altro che a cliccare a schiacciare sulla dicitura chiamata stato ubicato alla destra di questo angelicato programma di questa angelicata app applicazione ripeto nuovamente come si fa a vedere lo stato cosa faccio vado ad aprire l'icona di whatsapp eccola qua in alto a destra troverò tre scritte la prima è chat in alto a sinistra quella centrale stato quella a destra si intitola chiamate io non vado a far altro che a schiacciare la scritta stato ubicata al centro per vedere gli stati dei miei contatti ci clicco sopra ed ecco che mi escono i vari stati ovviamente solamente questa persona qua ha pubblicato lo stato bene come state vedendo ora non altro bene è stato un gioco da ragazzi vedere lo stato di whatsapp vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi se vi va commentate un saluto caro da leandro narratore italiano grazie